Il primo argomento hanno suscitato polemiche le dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Difesa Mario Mauro a Olbi in occasione della festa della Brigata Sassari in merito alla discussione sulla riduzione delle servitù militari nell'isola. Mauro ha ribadito il no ad ogni ipotesi di chiusura di conversione, ribadendo la loro rilevanza strategica per la sicurezza nazionale nello scenario euro-mediterraneo. Il deputato di Sella, Michele Piras, ribatte che la sicurezza nazionale non può continuare a chiedere ai Sardi un sacrificio di proporzioni così devastanti. Ma sentiamo le dichiarazioni rilasciate dal Ministro Mauro al nostro microfono. Nardo Marino. Può ribadire che non intende chiudere o comunque riconvertire alcun poligono militare in Sardegna? Guardi, noi abbiamo credo in questa regione diverse migliaia di militari, credo intorno ai 5.000 uomini, forse il generale Graziano mi potrà correggere. Peraltro è in arrivo un nuovo reggimento che andrà ulteriormente a contribuire alle politiche di sicurezza che il nostro Paese ritiene indispensabile attuare sullo scenario euro-mediterraneo e che sono un contributo importante per la vita economica della Sardegna. Ovviamente la presenza di questi militari implica la presenza di luoghi dove questi militari si possono addestrare. Anche perché, a differenza di altri luoghi dove magari possiamo immaginare che le truppe si spostino da una regione all'altra con relativo agio, perché si tratta di fare qualche chilometro di strada, molto più complesso è pensare che l'addestramento delle truppe che sono presenti in Sardegna si faccia fuori dalla Sardegna. Proprio per questo il tema dei poligoni è piegato non a una logica persecutoria nei confronti della Sardegna, ma a una logica di supremo interesse della sicurezza nazionale e delle sue strategie di difesa. Detto questo, noi siamo in dialogo continuo con le istituzioni Sard per contenere l'invadenza e le problematicità legate alla presenza dei poligoni. Siamo assolutamente disponibili, l'abbiamo mostrato da lungo tempo, ad accondiscendere a tutte quelle richieste che non mettono in discussione il beneficio per lo Stato di poter disporre di aree dove si esercita il dovere della tutela della sicurezza e ovviamente verremo sempre incontro alle amministrazioni e anche alla legge quando indaga, laddove la presenza delle nostre strutture militari possa creare problemi dal punto di vista della salute. Quindi credo che questa sia la posizione corretta e giusta di un'amministrazione. Il dialogo con i nostri interlocutori sardi non si è mai interrotto, è un dialogo fatto di tanta buona volontà perché sono rilevanti le contribuzioni che noi eroghiamo a diverse categorie sociali di una regione che spesso e volentieri vede in difficoltà la propria economia. Quindi credo che nei pastori, negli agricoltori, nei pescatori sardi possano guardare le forze armate con timore perché anzi tante volte siamo diventati anche un'opportunità alternativa e o di compensazione quando si è manifestato un problema. Ma mi lasci dire qualcosa di più. Noi non solo siamo presenti in Sardegna in forza di ragioni storiche e in forza di ragioni strategiche che sono legate all'attualità dell'instabilità dell'area mediterranea, ma siamo legati alla Sardegna anche proprio dalla storia dei nostri militari. Sono moltissimi i componenti della Brigata Sassari che sono sardi, la stragrande maggioranza, e sono tantissimi quelli che per la Brigata Sassari ci sono passati. E sono ancora di più forse coloro che sardi sono e hanno prestato servizio nelle nostre forze armate pur in altri reparti. Questa cultura di rapporto positivo tra forze armate e la Sardegna non può essere ferita da dei problemi che sul piano pratico si possono manifestare. Quindi sono convinto che si troveranno soluzioni per tutti i problemi. Aggiungo semplicemente che sotto la direzione del dottor Laspisa è in corso un'attività che è finalizzata alla realizzazione della seconda conferenza sulle servitù militari che si svolgerà in giugno a Roma che avrà una sua tappa chiave anche in Sardegna. In quella circostanza andremo al fondo dei problemi interrogandoci sui bisogni delle amministrazioni.